Giulia, hai già salvato il mondo da Draco oggi? No, oggi no, però ho battuto tutti i tuoi record! Cod'hai fatto? Date da fare! Continua così, così, bene, bene! Ancora 5 secondi! Eva! E quello cos'era? Era il suono del mio orgoglio! Ring Fit Adventure, disponibili solo su Nintendo Switch. Grazie per la visione!